buondì buonasera buonanotte ci avviciniamo passo spedito verso il finale di phoenix point ci manca veramente poco ora dobbiamo concentrarci sulle ultimissime missioni mentre facciamo la ricerca che ci farà dire stop una volta per tutte all'invasione dei pandorani tutto questo dopo la sigla abbiamo difeso questo haven e quindi abbiamo spedito il missile sulla luna ora abbiamo qualche ricerca che potremmo dare una mano anche a nigerico costruire la command fortress ma questo ci porterebbe al loro finale e finora non ci interessa relativamente queste sono altre varie ricerche shredding technology realmente non so perché non lo possiamo fare forse qua no questo è forse quello che ci interessa di più ma tutte ricerche che ci interessano relativamente perché ora dove ci interessa solo una cosa questa tutto il resto non serve tutto il resto tutto tutto il resto rieccoci qua allora stiamo facendo partire la ricerca sul mondo data analysis questo ci porterà alla fine alla fine di tutta l'avventura stiamo costruendo roba stiamo facendo il gudud che non ci servirà a un tubo sostanzialmente piuttosto che il gudud magari ci servirà forse forse dell'altro shard gun non possiamo costruirne una per ora anche al sub giughe ecco che non possiamo costruire un altro da questo costruire una intanto dobbiamo costruire altre roba bene pentacola che ho preso un bel po di botte un po' un po' questo l'abbiamo molto da pompare per fortuna lavatrice lavatrice a pochi punti da spendere quindi il power potrebbe servire bene voi tornate alla base charlie qui potremmo fare questa missione questa missione e poi magari questa però per fare quella ci serve il veicolo che non è qua ma è qua alfa delta hai un modo per più in corto ecco bello alla guerra sono alla guerra e noi dovremmo dirgli dovremmo evitare che questi si spaccolino l'una con l'altra che tocca fare ora però si serve il veicolo per farla ancora tre ore per il goodood devo creare un altro shotgun o un altro fucile da cecchino, un altro bello scorpion ce l'avevo davanti al naso, eccolo qua no mutog available, possiamo metterlo in qualsiasi base, intanto non livella di esperienza forse phoenix avionix non mi ricordo più quanto phoenix avionix cosa aveva di struttura medical day living quarters voglio andare a salvare qualcuno di questi nuova ricerca PROJECT LIBERATION TOCCA FARLO tu hai solo questo il stalker si è un po' scarso non posso dirlo ma si è un po' scarso LUNAR LANDER questo è un neve che potrebbe tornarmi utile a un certo punto di vista anche Rage Burst che con questo funziona tantissimo è un camo è un po' scarso più veloce andiamo a cavarci per si più 6 questo cosa dà? per si più 8 e ho finito quei caschetti pantaloni che danno più velocità non c'è nero non posso dire niente face invaders face invaders da un certo punto di vista è un po' una fregatura perché lui non ha armi con cui difendersi se fa fumble questo quindi andiamo di questo l'altro space invaders è anche un mattock of the ancients di cui si fa poco quindi andiamo da eccoci qua, siamo di nuovo a salvare i nostri amici da una brutta fine andiamo a salvare il sistema andiamo qua in pochini, eh, per questa missione le strutture sono sempre quelle andiamo a vedere chi diamine c'è enemy spawn, qua ce n'è un altro bene, sono tutti qua l'unerlander fa il tuo dovere vuole leggeriscimelo perché questo vorrei che ci sia adesso qualcuno di qua ma, mi fai, mi fai, mi fai egal I'm on overwatch Potrei iniziare a ammazzare questi qua, che sono belli squisci squisci Non ho fatto giù niente, mannaggia C'è ancora qualcuno C'è un assalto del segno ed arrivo C'è qualcuno che non vedo in questo momento Non ho preso il mangiamist, ma fai E va bene cos'è qua? E va bene cos'è qua? Una granata all'acido Di leale perdente nelle feste Un po' sui generis Vai E dove diamine la... E dove diamine sono gli altri Eccolo la Ui la la Eccolo Questa è un lavoro per Mutant Camel Resistore Questa è un fai Ehm... Ok La Resistore è abbastanza spessa Almeno con questo Almeno con questo riusciamo a fargli niente Ma forse... Ma forse... Ma forse... Ma forse... Ma forse... Meno uno Bene ma non benissimo Ce l'hai? Non ce l'hai ne ho visto E con questo E con questo l'abbiamo finiti Not so much Ah... C'è... Hanno anche l'arro Questi Im hullo grenade Per una tacita Andiamo a salvare anche questi Andiamo a salvare anche questi Andiamo a salvare anche questi Adesso che produciamo altre... Altre armi Questi sono pandorani però No? Questi sono pandorani A questo mi piace ancora... Mi piace un po' di meno Recute? No... No... Per fare un po' di upgrade Per mettere un po' di prestare Questa Notevole upgrade Come si può fare No... 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 No, no... Dagmara Lady for action però non ti serve anche qua Lo speed I need speed The gift è qua sopra Rispondete intanto alla chiamata Epsilon può entrare qua? C'è qualcuno qui vicino? Charlie? DELTA SUPPORT DELTA SUPPORT Sto estraendo gas che ce ne abbiamo una mariana Vai DELTA SUPPORT Andiamo a vedere cosa sta succedendo qua Andiamo a recuperare questi poveri I personaggi Gustavangus può stare in panchina Tra l'altro non ha neanche lo schioppo bello Schioppo bello Ma andiamo a dire Giusezza Sì Fra poco può fare il double of the ass un blaster killing an emigrant's allies on additional will point va bene che non servire ah per ora max power va bene lion catcher zack mcracken un martello che di cui non te ne fai nulla e se è un bombardatore questo acolyte leg armor non so se ti può servire è di questi pantaloni la stella ti interessa poco la fiore sicure babyface ha una marea ma una marea di 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 roba può fare adrenalin rush che gli può servire vedete che potrebbero aumentare questo soprattutto perché questo costa un sacco il bambino non mi stai in frenzina No, allora mi serve. Qualcuno rimanga a bordo. Max power e mi metta giù. Mettiamoci giù un plan cacciolo. Va bene. Deploy. Eccoci qua. Abbiamo lo al solito simpaticone sparavermi, stavolta sono vermi. Poison world. Abbiamo due soldati da recuperare. Che saranno al solito posto da questa parte? Sicuro. Vabbè, intanto andiamo a esplorare. Vediamo chi è che c'è. Una sirena? Di tipo? Beh, probabilmente mi trovo. Ma in sicuro. Ok, un heavy. Scemo perché potevo caricare la gente qua? Non si riesce a beccare qualcosa. Riesce a beccare una gamba. Non. Non. Data in generazione. Non so dove l'ho colpito, ma... Pover Ranger, vediamo se riusciamo a... Per apprendere qualcuno di questi qua... Eccoli qua, sono tutti gli uomini... C'è un assalto... E un heavy. Guarda che si deve essere stato lì, dietro... Let's blast them! Let's blast them! La domanda è se io uso Rapid Clearance? Qua sono tutti troppo in montagna... L'unico che c'è è questo pizzo qua che non lo sta a vedere molto bene... Hmmmm... Va bene, va bene... Quanto posso però sorbire i danni... Non l'ho capito malo bene... ... ... ... ... ... Ovviamente non si riesce a fare un passettino indietro perché è bug e facciamone due di passettino Riesco a prendere e riesco a rientrare Bene, adesso questo può avvicinarsi al punto di fuga che può essere questo I was born ready Riusciamo a espiarla di sirena, almeno un poco Riusciamo a mai a crocello Non scappare la phoenix! Il cannone da vicino non è il massimo! Le spostate di qua! E usiamo un feriscuo! E' abbastanza inutile! Ok! Ho fatto un bel perimetro! Aspettiamo che salvisci! Sì! Ci detti! Adesso non ci voleva! Sì! Servita! Beh! Allora! C'è poco da spazio! Qua! E' liberato! E' liberato! Vediamo se riusciamo a... La raccita della sirena! Ottimale! Grazie! Sì! Mah... 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 Ma... Anna! non c'è tanto mettere i pinoverosci di qua per il simpaticone che arriverà subito oppure è pronto a far fuori and my way on the lookout the face andiamo ancora... ah tu sei qua dentro e una di meno non c'è adesso è arrivato con la che ci fa sono due sempre colori è appassionato non c'è 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 ricordiamoci che dobbiamo andare verso la non c'è 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 però potreste muoverti di qua non c'è 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 Non possiamo sparare a nessuno, quindi riempa E' subito sparato dal cecchino E' arrivato il tempo di telare, ma telare veloce Perchè devi fare il giro da là? Non capisco Qua non hai spazio per andare E fare il giro da di qua per forza Una missione rovinata da dei bug E niente, se dobbiamo combattere con la lì dobbiamo combattere Perchè devi fare il giro da Oh 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 Beh, a questo punto se dobbiamo andare... dove andiamo? Verso questo qua Vado a fare Vado a fare Vado a fare Perchè quando non viene giù, eh Quanto non viene a fare Quanto non viene a fare Quanto non viene a fare Nessuno Nessuno Oh Oh Mazzardo Qui obesity Quanto non viene a fare Cosa è. Ah, ah, ah ah pio rooster non ha scondato Rientra, e tu, e poi, per sperare di uscire, a vedere cosa si riesce a fare con la pistola. La pistola che già fa un mal funzionato. La pistola che si riuscita a fare con la pistola. E poi, per essere un bel giro, è un bel giro. È un bel giro che si riuscita a fare con la pistola. Oh, osserva. Bello, c'è un'altra shadow Questa è una grana mia rush Ready to fire Vai di nuovo Over Ranger Oh, c'è un'altra Ah, non lo so, 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 non lo so. È resistito? Ma no. Non lo so, non lo so, non lo so. Sì. Sì. È tu cor. Ah vedi ancora quello lì che lo vedo. Ma tu adesso sei anche danneggiato. All set. On the move! Oh! 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 Ok. Holding position. De colpo. Oh! Oh! E' un po' di accidente. Ehm, mi ero dimenticato di lui. Direi che è l'ora di andarsene. Alla che etichetta. Via. Che missionaccia. Che missionaccia. Ora abbiamo recuperato un assalto. E' un heavy. Healer di cautious. Deve essere un attimo cecchino. Un attimo. 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 mmm mmm c'è che ci siamo altra armatura non so se ci serve anche perché con tutto il mutagen che abbiamo un buone se è vero se è vero se è vero conferma tutta la stessa un ottimo mix come un ciotto quindi non ti posso dare l'uno dall'altro posso darti questo qui aumenta l'accuracy posso darti anche queste per diventare un bello stealth ho cercato quello spill-1 questo non mi serve è questo è Fion lo pionzi Keith Griffith Keith Griffith invece ha bisogno di un bel po' di pose un bel po' di allenamento ultima missione è vero Falta una full production, salve Assalto Andiamo i nostri Assalto La selezione Bacchus, i'm not gissin' fucin' fucin' Let's blast him No Let's blast him Time to step up Time to step up No time to lose No time to lose Time to move Time to move Time to move Wait Un under assolito, c'è un po' di movimento. Ricordiamo che non deve ammazzarci tra di loro. Oh, è rimasto ancora questo qua. Un po' lontano. 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 Sorpresa. Meno male che ho fatto il lato. Lontano, non lo so. Un po' lontano, non lo so. Un po' lontano. Dove due頂? Un po' lontano. che male Spoint non si può mai essere troppo confidente, mai. Ok, tutte le basi sono state salvate. Abbiamo un medical bay però... Oddio, la ricerca che non volevo fare. Project Liberation. Non è male, Project. Abbiamo tempo di fare questo. L'altro qua sta arrivando Eccolo là Vediamo che ti vedo che si prenda il quale il il di Adesso sarà molto tosse, eh? Giulio Marfi Deve fare diventare almeno un assalto, eh? Se no non riusciamo a fare un tuo Non riusciamo a fare un assalto Ora per l'assalto e ti do questo Non te ne fai più niente Per l'assalto 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 non è più utile non c'è l'ai ma non no 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 questo sarà questa proviamoci sarà tosta eccoci allora questo poi andiamo a vedere dove si può usare perfetto lì ho lanciato in bo ovviamente non potete esplodere non 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 e 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 direi che finora mi sono divertiti abbastanza quindi andiamo abbiamo ancora 19 euro e 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 a presto ragazzi e e e e e e